Cari amici di Mille Un'Avventura, in questo video parleremo di un argomento che in computer grafica è famoso da almeno 40 anni. Parleremo di Boyd's, questi volatili che viaggiano in stormi, come gli storni che vediamo nelle nostre città, viaggiare tutti in stormi molto compatti, che si muovono in modi strani e lo faremo sul nostro amatissimo Commodore 64. Mi raccomando se vi piacciono questi argomenti iscrivetevi al canale e ricordatevi di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche. Ora computer grafica ma anche Commodore 64. Che cosa ci ha proposto Ferdinchi che ricorderete in un video recente in questo Imperium Zero, un gioco strategico che lui ha realizzato completamente in basic e che ci permette di conquistare un settore della galassia vincendo la resistenza di nemici interni al nostro Parlamento e anche esterni, alieni esterni. Ebbene, Ferdinchi dopo essersi dedicato in basic a questi argomenti, agli strategici, si è appassionato al flocking, cioè a questa capacità che hanno i volatili, in alcuni casi, alcune specie, di volare in stormi per ovviamente difendersi dai vari predatori. Volando tutti assieme riescono a sopravvivere meglio rispetto a volare per conto proprio. E questo avviene ovviamente anche nei banchi di pesci. Ci sono tanti esempi in cui una mandria, uno stormo, tanti animali della stessa specie, viaggiano assieme per difendersi dai predatori. E questo è un argomento che è comparso sui computer nel 1986. Craig Reynolds, questo programmatore che lavorava alla Symbolics Incorporated, ha realizzato per il SIGGRAPH del 1986 una manifestazione che raccoglie tutti i progressi che si fanno di anno in anno nella computer grafica, aveva realizzato questo dimostrativo che aveva chiamato Boyd's, perché Boyd's ha un significato che sta per beardoid, quindi beardlike, qualcosa che si comporta come uno stormo di volatili. E qui vedete in queste schermate del suo dimostrativo in computer grafica usando l'OpenGL del 1986 sulle workstation dell'epoca, vedete dei triangolini che viaggiano ed evitano questi ostacoli, però tendono a rimanere tutti assieme. Ormai ci sono tantissimi esempi di questo comportamento realizzato sui computer e le regole che di solito si applicano, che sono quelle poi pensate da Reynolds pensando proprio a come si comporta un volatile all'interno del suo stormo. Beh, le regole erano molto semplici. Osservando il mondo naturale si era accorto che le regole erano solo tre. Separazione, allineamento e coesione. Separazione, ogni uccellino non sta troppo vicino all'altro perché andrebbe a colpirlo, si potrebbero fare male sbattendo le ali e quindi molto velocemente questi volatili riescono a capire di stare abbastanza lontani da tutti i loro vicini che sono loro intorno. Allineamento invece è cercare di mantenere la velocità dei vicini. Se i vicini hanno una velocità media che va in una certa direzione verso, ebbene cercano, ogni componente cerca di regolare la velocità in modo che sia quella. E poi la coesione. Chi è ai confini magari tende a uscire fuori, ecco, la coesione lo riporta all'interno dello stormo. Ecco, queste tre regole, questi tre comportamenti portano a comportamenti emergenti più complicati. Se ricordate in un video di qualche tempo fa avevo realizzato questa cosa con strumenti moderni su micro studio, con questi pesciolini rossi che oltretutto aggiungono un ulteriore comportamento, quello di allontanarsi se si avvicina troppo uno squalo. Ecco, vedete, ci sono davanti io ma adesso mi sposto un po'. Vedete, ci sono tanti pesciolini rossi, tendono a mantenere la stessa velocità, se si allontanano troppo dal gruppo cercano di rientrarci e poi, appunto, c'è questa, non mi ricordo più, coesione, separazione. Ecco, separazione in realtà, se osservate, non me la ricordavo perché qui non l'ho applicata, la separazione non c'è, infatti i pesciolini possono anche sovrapporsi come se fossero su piani diversi. Quindi qui abbiamo solo allineamento, i pesciolini guardano i pesci intorno e decidono qual è la loro velocità media. Alla fine vanno più o meno tutti nella stessa direzione, se due gruppi si incontrano cercano di radunarsi e poi la coesione, se uno si allontana troppo cerca di rientrare nel gruppo e lo squalo invece porta a generare il comportamento, allontaniamoci ovunque dobbiamo andare, dobbiamo sicuramente tentare come priorità di tenerci lontani dallo squalo perché penso che fossero 200 pesciolini iniziali e siamo già scesi a 197. Per fortuna lo squalo è abbastanza lento e i pesciolini sono un po' più veloci e allora da un certo punto in poi si salvano. Ovviamente questo è realizzato con linguaggi moderni su computer veloci e invece Ferdinchi ci ha creato la stessa cosa sul Commodore 64. Ovviamente non può farlo con tutti questi pesci ma ovviamente ha dovuto anche ricorrere a un Basic un po' più evoluto rispetto al Basic 2.0. Lui ha usato il Simons Basic qui in versione 3.1 che è un Basic, qui vedete il suo manuale del 1983, un Basic che comprende 114 comandi addizionali. Non l'ho mai portato sul canale ma è talmente famoso che chi conosce il Commodore 64 sicuramente ne ha sentito parlare se non addirittura lo ha usato. Andando a vedere qualche comando, tanto così per rendersi conto, ci sono tutti i comandi di grafica che vi permettono di disegnare linee, cerchi, plottare, passare in modalità in alta risoluzione, si può anche stampare il testo sullo schermo grafico, quindi tante cose interessanti che si possono fare. Altre funzioni gestiscono lo schermo, riempiono delle zone, fanno la copia sulla stampante, c'è la gestione degli sprite, c'è qualche istruzione per la programmazione strutturata, quindi evitando i vari goto e ci sono gli effetti sonori e musicali e tanto altro, quindi la gestione della penna ottica, insomma tante cose che rendono la vita dei programmatori sul C64 un po' più comoda. E allora dopo aver caricato il Simons Basic qui sul nostro emulatore di Commodore 64 andiamo anche a caricare il programma di Ferdinchi. Ferdinchi ci chiede, ecco, tre elementi, evidentemente tutti i 200 pesciolini più lo squalo che avete visto prima sono un po' troppo impegnativi per il nostro Commodore 64. Qui possiamo mettere tre elementi, diamo le loro coordinate, 100 e 100 per il primo, lo mettiamo un po' lì a metà schermo, poi ne mettiamo un altro 50 e 60 e l'ultimo, il terzo componente di questo stormo di banco di pesciolini è messo magari 120 e poi facciamo di nuovo un 70. Temo che crashi tutto perché devo aver fatto un pasticcio. No, ed ecco qui le tracce, ecco, sono su questo blu, si vedono poco però state notando che le tre tracce, le tre linee si stanno avvicinando tra loro. E adesso avete notato lo scatto indietro, quindi c'è stato il comportamento di coesione che li ha portati vicini e poi il comportamento invece di separazione che li tiene lontani. Non vedo, però non ho guardato il codice, in questo momento non vedo il comportamento di allineamento, quello che porta poi lo stormo andare per un certo tempo in una stessa direzione e poi le varie interazioni tra i componenti del gruppo portano tutto quanto a cambiare improvvisamente direzione. E qui mi pare che si veda, adesso si è raggiunto una sorta di equilibrio perché vedo un movimento sempre uguale ma adesso è di nuovo cambiato, quindi vedo la coesione e la separazione. Non noto l'allineamento, però ci dirà magari qui sotto nei commenti il nostro Ferdinchi se ne ha tenuto conto. E quindi abbiamo una sorta di stormo di tre componenti che chiaramente è un po' poco ma non possiamo pretendere più di tanto dal nostro Commodore 64. Oltretutto, magari qualcuno se ne è accorto, la velocità vera in realtà è questa qui. Ormai non vedete più nulla che si muove perché avevo attivato la velocità warp per far vedere appunto un'animazione un po' più accettabile, un po' meno lenta. Adesso che ho tolto la velocità warp praticamente non si vede più quasi il movimento, si vede ogni tanto un pixel che si colora, poi quando si allontanano si nota abbastanza e piano piano si distanziano. Quindi se rimetto la velocità warp adesso si nota di più l'effetto. Quindi ringraziamo Ferdinchi che ha portato sul Commodore 64 questo tipo di algoritmi e ci ha ricordato tutte queste belle cose anche che avevamo realizzato in parte con micro studio per fare un bel video particolare e siamo addirittura tornati al 1986 quando Reynolds ha deciso di voler simulare questa cosa e da lì in poi i programmi sui Boyz sono fioriti su tutti i computer con qualsiasi grafica in ogni diciamo sistema operativo esistente. Non c'è programmatore penso che per divertirsi e esercitare la sua conoscenza di un linguaggio di programmazione non abbia prima o poi realizzato un programma di questo genere con più o meno Boyz che girano sullo schermo. Bene direi che è stata una cosa interessante se avete cose di questo genere da proporre sul Commodore 64 o anche su altri computer a me sicuramente interessano e potremmo farci un bel video per così ricordare queste cose andare a vedere anche da dove sono nate e qual è stata la loro evoluzione. Grazie ancora a Ferdinchi, grazie a voi per aver seguito il video fino a qui e ci si vedi in un prossimo video in una prossima diretta. Ciao a tutti! Ciao a tutti!